E' un cuore grande quello dei tanti abitanti di Bellari e Giamarina che nelle ultime settimane hanno risposto a diverse iniziative di aiuto alle popolazioni terremotate del centro Italia, un territorio così raccontato da chi l'ha visitato. L'Aquila credevo di aver visto il massimo della distruzione che si potesse vedere, invece qui proprio ci sono frazioni comuni completamente rasi al suolo e la differenza soprattutto degli altri terremoti da San Giuliano di Puglia al Modenese oppure all'Aquila stessa è che lì purtroppo ci sono una miriade di frazioni che rendono difficilissimi gli interventi. Il comune insieme alla protezione civile ha quasi raccolto 40.000 euro per la realizzazione di un centro giovani ad Amatrice. Come dice giustamente il sindaco Pirozzi di Amatrice, la rinascita nasce dai giovani, quindi parte dai giovani, ecco perché per lui sarebbe un grossissimo regalo questo centro giovani ad Amatrice. Ci sono poi dei privati cittadini bellariesi e riminesi che da soli hanno messo in piedi uno gruppo su Facebook per la raccolta di donazioni e attraverso il passaparola online sono riusciti a riempire sei furgoni di prodotti di prima necessità da destinare in particolare alle frazioni più isolate colpite dal sisma, quelle che più di tutti il mix di scosse e neve ha ridotto allo stremo.